apri cavolo fai una freddica immensa per ogni portone che devi aprire ah comunque io vi devo avvisare ah pure qua quindi adesso i non morti sono i nioteti degli alberi ecco sta cosa io devo capirla no non lo posso tagliare beh distruggono le sedie in nome di rex rex è un figlio sarebbe fiero di me vado di qua perchè è di qua che si prosegue invece di là è un piccolo cieco a meno che non sblocco lo shortcut non preghi te dovresti portare anima di un cavallero abbandonato che è che è è zitto venghino venghino ce l'è per tutti e calma e per piacere oh mio dio un disperato se non mi sbaglio eh ma frega allora di qua alberi no no niente non voglio niente tranquillo può rimanere lì la ragionco più tardi se vuole scendiamo giù prendiamo questo bello oggettino da un cadavere abbandonato vediamo se riesco a fare i perry perfetto perfetto va bene no aspetta aspetta era perchè volevo fare i perry questa cosa però è nuova perchè non potevo dare il cazzo sturdire l'avversario e fare non il perry però quello tu devi dare oh che cazzo ha uno spettro così a caso dai corri corri che fa ah già che questa io mi ricordo anzi ho visto un attimo che puoi fare adesso delle cose in più con Dark Souls 3 tipo questo e sono delle aggiunte che hanno entrato nella Dark Souls 3 e se da che si entra nella ceppa vi resumo io in questa posizione noi potremmo utilizzare i nostri attacchi base R1 R2 consumeranno un po' di mana però il danno sarà maggiorato diciamo sfrutteremo un attacco un po' più potente più carico invece per quanto riguarda le asce o le mazze queste ci bufferanno e avremo uno status alterato che aumenterà il danno fisico per poco tempo questo è quello che ho potuto vedere al momento ciao salve il giro intorno eh voi mimiche non cambiate mai lascio la battaglia vi sale andiamo avanti ok di qua così ok di qua adesso c'è quel cavaliere là aia 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 si ancora rompere le balle basta oh poverino ah no praticamente ho fatto il percorso più corto sostanzialmente salve scusi la raggiungo la raggiungo dopo bomba incendiaria stia lì eh grazie cosa 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 ah ma c'è un 3 eh va bene ma almeno potrebbe dire allora si vai di là si va avanti invece qua giù non c'era ancora stato ci andiamo adesso salve ero solo di passaggio è chiuso ok aspetta mi chiedo certo ah ah eh è resistente questo qua è alto un metro e otto e novanta bello tosto aspetta quella putta di traffola me lo sento volteo da lancio certo se non c'è nessun altro non posso anche andermi a casa eh ah no spezza corazze e ok qua non posso andarci è chiusa ah ho capito devo tornare ho capito ho capito ho capito ho capito ecco perché avevo ottenuto quella chiave della cella ma non avevo visto la cella era qua ah adesso la vado a prendere buongiorno a succedo l'ho matito subito bomba incendiaria grazie grazie scendiamo giù porca troia oh cavolo sto per cadere mi vedevo giù nel di un po' ok adesso bisogna andare di qua però voglio controllare un attimo di qui salve come sta vai dai dai certo altra volta ok cosa che mi dico bello lancia lunga no sto giro me lo tengo questo personaggio qua si chiamerà vittorio le grandi gesta del valoroso vittorio le ultime parole famose ah ah ma era una vecchia signora mi spiace mi spiace ma sti cazzi che dite mi rifullo ma no aspetta un po' cazzo è bello che lo sapevo è il bello che lo sapevo spada larga mi rifullo non sei mai troppo prudenti tanto poi sblocco lo shortcut e vado tranquillo usate oh buongiorno svegliata coltelli da lancio questo qua scudo e l'aquila però non mi piace buongiorno buongiorno vai che ho beccato nessuno perfetto sono c'ho una grande mira quel cane muore vai no non è morto vai ok ora è morto abbiamo dieci bombe incendiari possiamo divertirci un pochino che dite perché c'hai con quel tavolo innocente prendita con qualcuno di più alla tua taglia mazzosco scherzato scherzato non è vero vieni qua ah già che sono esplosivi vieni qua ma il dracone vai muori tra zino zino c'è un cane pau pau che schifo muore mi stia vai via oh mamma oh mamma dimentichiamo questo piccolo incidente e andiamo avanti e stock non diciamo non continuiamo la per carità brace corri 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 potrebbe cambiare idea non è che sta venendo da me no 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 eh ma che cazzo ma sto parlando cioè dicevo già vedo vedi Yotobi che nella sua run qualunque bastardo muore ho capito che non la dico più no era per dire l'avete visto buggato un pochino che attaccava il vuoto ecco Yotobi l'ha beccato in mezzo alla fiamme ed è morto così video se lo fa anche con me no no magari magari mi saluto ciao bottici bastardo ah che c'è morto godo porca aspetta che vengo da te eh aspetta che vengo da te aspetta che vengo da te anzi no faccio così no no così ok ora vieni qua contento adios età fido hai visto che ha ucciso il cane non ne frega una serie e non è morto ora ma vedi un po' aia oh 30 arco lungo freccia normale e però aspetta dov'è che ottenevo la chiave della cella non mi ricordo aspetta devo trovarle le ho beccate prima venghi qua dai mi viene anche l'alco vero no ne ha tirato solo uno ok dai bastardo hai finito di rompere le balle grazie grazie niente vabbè fatica sprecata buongiorno alve oh 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 gamboli da caviglia di otto e che vai se mi faccio il set se riesco fammi il set è un po' dura allora ho visto un oggettino di qua oh no 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 non scherzavo no 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 due mi bastano non voglio rischiare ok rifugiamoci e andiamo il brode vittorio si prepara ad affrontare il suo nuovo avversario una bestia venuta dall'era glaciale oh no oh no ok andiamo ad affrontare questo posto dai torno dai ah ah a scocciare così eh a scocciare così eh aspetta a scocciare così Vittorio non può avere difficoltà di difficoltà Arma di Vordt della Valle Boreale Boh, è qui che termina le grandi gesta del valoroso Cavaliere Vittorio Perché poi comincia con quella di Gilbert Gilbert Sì Perché in realtà questo qua è soltanto per farvi vedere che Ero arrivato fino a quel punto E basta Quindi Ma dovrò rompere le balle con qualcuno Cazzo, questo è un desertore Sì, sì, sì Sì, sì, sì Vieni qua No Ah, ma metà tutta Beh Dai Su, vieni Bastardo Si rifulla Non lo faccio anch'io, eh Non ti crede Aspetta, eh Ma no Eh, vaffanculo Eh, vaffanculo Dai 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 Oh Vieni qua Ah Ah Oh Oggi siamo Per idee Non ne eri altro che un cadavere sotto terra Gemma pesante Ah Vabbè Mi spiace Vittorio Questo è il tuo ultimo viaggio Addio È stato bello Finché è durato 47 minuti Addio Allora 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 Allora